Il corso Web Reporter è un corso particolare. È composto da 9 lezioni della durata di 90 minuti cada una, nelle quali vengono affrontati tutti gli aspetti che riguardano la produzione e la realizzazione di un Web Reportage, cioè di un Reportage Video, destinato ad una diffusione nella rete. Ora si pensa che realizzare dei brevi reportage di 2-3-4 minuti sia cosa facile, invece no, non è affatto facile, perché occorre avere una serie di conoscenze molto più spiccate e approfondite qualora un giornalista reporter, perché è di questo che si tratta, cioè una sola persona che può creare e può produrre dei reportage che siano in se stessi completi senza l'apporto di altre figure professionali. Costruire un reportage, anche breve, implica una serie di conoscenze che io cerco di trasmettere con dei principi che ho acquisito nei corsi internazionali di produzione e dunque inserisco in queste lezioni degli elementi, degli approcci che sono squisitamente internazionali. Voi direte che cosa significa questo rispetto a un reportage fatto comunemente? Significa moltissimo, perché in genere gli standard internazionali, anche dei brevi servizi televisivi e a maggior ragione su quelli della rete virale, hanno necessità di avere un particolare narrazione, un particolare ritmo. L'idea, il soggetto deve essere, se di attualità, realizzato in poco tempo, se invece il servizio può avere vita più lunga, deve essere strutturato in un altro modo.